Allora, come si sveglia? Quando in cui si sveglia... Se no gli butto un po' di neva a dottor... Aspè, lo legate dove lo mettete? Lo tenete per terra? Lo mettete nella carovana? C'è nel carro? Beh, lo leghiamo a un albero? Se lo mettiamo nella carovana, facciamo la scena alla Skyrim. No, no, c'è... Perché si risveglia. Ma allora, c'è... C'è un albero, lo leghiamo a un albero, no? Bello, così non si muove più. Ok. Nel momento in cui si sveglia, inizia a ringhiare... Fatemi un tiro di riflessio. Fatemi un tiro di riflessio. Ti tiro una sberla. Sì. Cos'è che dobbiamo schivare le sue maledizioni e le sue bestemmie? Il suo alito. Lo schermirei i dei. No, ho fatto uno su... Lo dico, ho fatto 20. Gli faccio un counter. Allora... Gli faccio un counter su per il culo. Nel momento in cui comincia a ringhiare, esce come del vapore dalle sue guance e nel suo rugito... Cazzo, io scherzavo. Thorin patina sulla terra. L'anlis e Caleb si guardano intorno per dire che cosa sta succedendo e si beccano in faccia il soffio. Evviva! Evviva! Ma per caso gli altri... Le altre guardie avevano resistenza del gelo? No. Mi sa di nuovo guardie. E subite... 6 di 6 danni da freddo. Eh vabbè, me ne faccio una ragione. Aspetta che ve li lancio. Meno due danni perché c'è resistenza al freddo. Wow! Flash R. Sono così forte che gli dicevani che ho subito e non li ho subire. Che schifo! Mi curano un attimo dopo. Vinti, ho una pacca sul culo e ti cura. Cheat! In effetti. No, non lo siamo un copione. Wow! Allora... Che colpo, che colpo basso che hai fatto. Anch'io! Ok. Bene, questa me la paghi. Anzi no, 16. Che sto dicendo? 14. Facciamo tutto in collettivo. Torino ne subisce solo 3 di 6. Quindi ne subisce la metà. Quindi prende 8. Sì vabbè, 8 gli altri. Torino pure. Però c'hai... Perché io? Perché anche se... No, oddio. Un successo critico non dovrei fartelo contare in teoria. No, 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 c'entra. Sì, riflessi di mezzo a meno che non hai il talento. Sì, a meno che non hai... O hai resistenza al freddo. O hai resistenza al freddo o alcun'altro cosa. Ah, davvero, si è scosta. Aspetta, sono da freddo, c'ho resistenza a 2. Sono 6 quelli che subisce. Sono 6. No, 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 no. No, no, no. Nel momento in cui fa questo... Sabbiate che io non ho ancora tolto l'iniziativa, c'è un motivo, è chiaro. Nel momento in cui lo fa, vedete il suo corpo iniziarà a gonfiarsi e la corda che si inizia a tendere è lui che si sta iniziando a ricoprire di pelo bianco. Ok. Ho solo due le cose. Ho il Dress Tinto e sta diventando un bianco. Era già il bianco. No, si sta trasformando in licantropo. Spacca le corde e si trasforma in luto. Domanda, Master, posso fare un tiro per capire se c'è un modo per bloccare la trasformazione? Uccidilo. Sì. Non fanno svenire, teoricamente. Un bel proiettile di argento superi il culo. Tira di conoscenza. Un bel suppostone di argento. Intenta che qua, una spada lunga ci basta, e avanza pure. Da vicino, tienimi di conoscenze... Sono il manico. Non so che fatti dire, che comunque dovresti ricordarti dalle storie di tua madre. Conoscenze di religione. Non so se dovessi avere... No, fatti dire di conoscenza arcana, considerando che è più 5. Già contato il più 5, cosa è successo? Bello. Ma come è successo? Ma quel bello che ha fallito. Sì, vai sopra e vedo il numero, infatti. Sì, appunto, boh. Comunque ho fatto 40. Comunque ho fatto 40. Hai fatto talmente tanto che non riesci a visualizzare. Paura. Si rifiuta di visualizzarlo. Comunque. Get too much strong. Qui vedi che si sta trasformando, ricordi un'altra parte delle storie di tua madre. Dove ricordi che i lupi invernali, il loro vero aspetto è quello di un animale, non di un essere umano. Quindi lui sta per niente ritornando alla sua forma normale. E a differenza dei licantropi, lui non subisce gli effetti dell'argento. Ah, un cazzo. Mannaggia. Però il mitra lo subisce per bene. Quindi ha un palo in culo, infatti. Quindi come cazzo facciamo a farlo... A interrogarlo, sto stronzo? Beh, guarda. Io nel momento in cui si trasforma, senti... E appena tu dici come lo possiamo interrogare, Arda ti risponde... Lo interroghi dopo che è morto. Mi ricorda con gli occhi incazzatissimi. Di questo mi ci faccio la pelliccia. Ma potrebbe avere informazioni su mia madre. Ma è morto. Tanto ormai è un lupo, non è che dici. Dirà chissà che cosa. Eh, lo so. Però sai da dove viene, quindi puoi trovare altre informazioni. Vabbè, quello sicuramente. Il problema è che da dove arriva ce ne sono altre. Quindi non ne sono molto... Eh, vabbè, più pellicci per noi. Vabbè, ho capito. Ci facciamo il set completo, dai. Va bene. Winter is coming, bitch. Ecco, posto. Torin aveva il gigante, giusto come lingua? Anch'io ce l'ho il gigante. Io sì, avevo il gigante. Ok, allora, mentre sta ringhiando, riconoscete nel ringhio comunque parole in gigante. Cosa dice? Prova a risponderli in attenzione. Dice che ci ammazzerà tutti. Eh, che bello. Simpatico. Come pensi di farlo, piccolo? Beh, piccolo un paio di cazzi. È quattro metri di lupo. Cioè, tu lo sai guardare così. Ada, mettilo che fa un'altra volta. Ada, ti guardi come per dire... E non impara. Che cosa ci devo fare? Non impara. Il lupo perde il pelo e il vizio. Sì, tra un po' perde il pelo e il vizio e anche la vita. Intanto facciamogli perdere il pelo. Ok, vai. Usa la domestica animali con il martello. Teno, domestica suon di botte, mi sembra giusto. Beh, mi sembra una cosa naturale. Tipo il telecomando che non funziona. Il botte riprende. E... Che fa... Regà, che faccio? Gli tiro... Una carina non letale. Considera che ha detto... No, no. Tira lì una sassagliola vera. Sì, perché... Che facciamo... Che ho capito cosa dobbiamo fare. Ho capito cosa dobbiamo fare. Questo qui lo dobbiamo mandare a un punto ferita, il bastardo. Sì, 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 non ti preoccupare. Un punto sì, sì, certo. Certo. Un punto ferita. Fidati. Tranquillo che ce lo so mandare. Sì, sì. Mi hanno messo sassagliola letale, gli andrò di sassagliola letale, Master. E ci aggiungerei pure due punti di burn per rimetterla a cuccia con le tanti. Vai, vai. Ma sì, non devo fare. Io uso smite a tacco poterosso. Da fermo. Io il gigantelitico avevo la possibilità di collaborare, mi sa che adesso... Ne prendi tante, ma tante. E mo' i sui orcazzi tuoi. E mo' i sui orcazzi tuoi, sì. Contro le mani di Gianni ad azione. E la madonna. Tutto sto bordello per quasi 40 tanti. Beh, considerando anche i 30 di prima, guarda che stanno belli messi, eh. Sì, no, di fatti ho fatto meno danni di quanti speravo. Ho fatto tanti tre e un due. C'è un segno. Però... Mi deve fare... No. Nulla. È intangled. Non ha una cd da po'. No, deve fare un tiro salvezza sui riflessi. O era una prova di combattimento? No, tiro salvezza sui riflessi. Io ho postato il benefit di intangling infusion. Quindi il mio bluff in echo... Se mi trovo, riflessi. Ok, ok. Riflessi, sei... 22. Però reflex in echo. È sotto. 22. Ah, sì. C'è ragione. 22 ha fatto. Ha fatto 22. Dovrei controllare la CT perché... E allora fa i 15. È superato. È superato, ha fatto 22. Sì, sì, sì. Superata, di fatti. Sospettavo fosse superata, però questo l'ho detto da subito. Allora, tocca a Turion. Lo faccio tipo completo sui denti. Faccio tipo il bentadente, a modo mio. Gli fai il controllo delle carie. Scusi micchia, gliele controllo tantissimo. Non vuoi, vuoi anche di... A presto, c'è un minimo di sporco esplode. 31 non è male. Non è malvagio come danno. Gli fai 14 danni sui denti. Ok. Finalmente ormai... N6. Secondo. Prova a colpire di rimbalzo, ma lo manchi. Probabilmente perché un dente è volato e tu hai colpito lo stesso dente. Tocca a Dada. Volta a te. Che si innesca, quindi parte coi pugni di fuoco. E va con la raffica. E la madonna... Perché gli altri attacchi sono più belli di quello uscito prima? Comunque colpisce con tutti. Danni di fuoco pure, quindi... Tre, son cinque. Inutile dire che è morto ormai. Inutile dire che è morto. Tipo la Simpson. Ma Romain è morto! He's already dead! He's already dead! Tipo il primo pugno era già morto, però Adam voleva infierire per via del cappotto. Tipo... Ma un machine day... È impensibile, dai, d'altronde. Già lei... Ha cambiato... Ha pochi vestiti. Poi pure li rovinano. Comunque dopo l'ultima saccagnata di botte, questo ha smesso di respirare. Ah, che bello. Tipo dopo il mio mente ha funzionato. Praticamente, dopo aver finito la battaglia, Nadia si avvicina a voi, osserva... Lupo morto... È carne. No, non è carne. Ah. Torno un attimo indietro a guardare la pelliccia degli altri due lupi per confrontarla. E vi informa che può produrre, tra i lupi che avete ucciso e lui, può produrre 5 pellicce particolari che vi permetteranno di trasformarvi in lupi invernali. E' apposta. Ma figata! Ma subito, tipo... Un lupo che è in treniera. Beh sì. Un lupo che è in treniera col martello in bocca. Ah, bellissimo! Sif 2.0. Aspetta, io come faccio a tirar le frecce? Ti cadichi con le zampette per terra e tivi. Sto pensando se praticamente diventiamo tutti come coso, come quello di... Il boss di Dark Souls è il cane. Porca, è come Sif? Oh mio Dio, è vero? Solamente che a posto della spada c'è un martello. Il mio sparerà... Il mio diventa tipo un Pokémon. Fallacciafiamme, geloraggio, tuono... E tu diventi tipo... Tu diventi il Pokémon lì in lotta a fuoco, vedete? Il mio diventa... Sì, il mio diventa... E tu diventi Zamazenta. Minchia, vedo. E Zamasia, nei Pokémon nuovi di spada e scudo. Ma ci vuole un giorno. Non ci vorrà un giorno ancora. Per... Per... Per partire. Il tempo per... Oh! Ne vale la piena, direi. Informa comunque che... Non sa quanto potranno durare. Come... Come abilità. Cioè, come la capacità di personmarvi, non sa quanto potrà durare. Comunque molto poco. Però... Meglio di niente. Potremmo infiltrarci nella loro... Nella loro... Sì, praticamente funziona che... Come la indossate... Vengono i capelli bianchi... Diventate... Con l'aspetto di... Dei lupi d'inverno in forma umana. Però una sola volta... Potete trasformarvi in lupo. Una sola volta, però. Ok. Ok. Vabbè, da mentre che fa sta cosa io leggo il libro. Sì, tu ti leggi il libro. Ada impara a leggere. Diciamo anche scazzato, perché tipo ho fatto fuori il metà... Il metà paionete in un momento solo. Io... Io... Ah, se Ada vuole imparare a leggere gli insegnori. Così almeno impara a fare qualcosa altro. Impara a leggere e scrivere. E fa la cacciatrice di cultura, poi. Quella acculturata. Che brutta battuta. Vabbè, ecco... Che brutta battuta. Che brutta battuta.